Cioè, questo è un gancio! Comunque. Penso che mi sarà utile per trovare qualcosa, prima o poi. Ah, mi stai aspettando lì. Ah, adesso con questo... Però... No, eh, muori. Ok. Forse distruggerle tutte così mi toglie qualche segretuccio. Io giuro, com'è possibile che non ne ho visto ancora uno? È sempre il primo capitolo, ma... Dai! O me li avete messi tutti verso la fine? Questi sono più forti dei goblin normali. Ma davvero? E hanno armi più avanzate. Ma che sta succedendo? Non me ne ero accordo che avevano armi più avanzate. Giuro che non vedo niente. Ma, vabbè. Grazie, amico. Oh. Cos'è che ha detto? Scusate, ma ho voluto testare... Quanto ho il mio raggio con quella... Con questo braccio. Non si distrugge? No, non si distrugge. Scusate, è tutto per la scienza. Per l'amore della scienza, no? È semplicemente che sono un completista del cazzo. Ora sono leggermente più grosso. Mi faccio leggermente più male. Bello. È a tempo anche? Non sembrerebbe. Eh, in volo. Bella madonna. Tiè. Così ti va meglio? Beh, voi mi fate proprio pene. No, a quanto pare non c'è niente. Come era morto male quello. Povero. Contiamo su di voi. Qua saci tu, rag? Cavabunga! Bello vedere le ombre. Ah, forse di qui? Che è? Sono troppo grosso? Ah, eccolo, è il primo. Primo o secondo segreto? Cioè, sono un gigante, però mi devo ridurre così. Pensa a te. E un segreto, finalmente. Grazie. Pensavo di essere scemo e non trovarlo più. Ed è il secondo. È il secondo, ovviamente. Di cazzo era il primo. Eh, dicevo io che stavo adorando troppo. Oh, anche non ci passa. Io so che ci stavo mettendo troppo a trovarlo. Triangolo. Oh, ma sono diventato abbastanza grande. Mi sembra una violenza un po' esagerata. Tampai, sto diventando gigantesco. Chissà dove cazzo era il primo segreto. Vabbè, eh, queste... Scusate, eh, io faccio sempre così per prendermi un po'. Perfetto, ci siamo persi. Stavo iniziando a pensarlo anch'io. Buongiorno! Ma è stato un calcio. Mi sento un po' pesante. Non si sta parando, nonostante mi dica di farlo. Ok. Sono cinque metri, adesso arriveremo sei? No. Quanto pare sempre fermo. Ma tra poco c'è. Come mi devo ridurre? Non tutte... Guarda... Uh, cazzo! Dai, dai. Cucci, 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 venite! Secondo me... Mi hanno messo tanta intelligenza, non mi pare. Boom! Guarda, guarda che intelligente. Era meglio se proteggevate il passaggio. Almeno potevate fare qualcosa. Io adoro fare questa cosa. Boom! Oh, non mi paro più! Oh, fermi, fermi, fermi. Ti ho tenuto una macchina per te. Ho già fatto un cazzo. Ne vuoi un'altra? No, quanto pare ho sbagliato la mira. Vieni, vieni. Come è andato l'altro? L'ho perso. Ah, ma questa non è una pietra solare. È un insegno. Scusate, io distruggo tutto perché è mia abitudine. Guarda come mi va. Scusate, scusate. Stavo facendo i cazzi miei, è vero. Sono così grande che neanche riesco a colpirli. Guarda fin dove mi prende le pietre. Siamo arrivati, penso. No? Ammazza. Scusate, andatemi tutte le pietre. Non ho idea. Quello sembra grosso. Questo posto mi ha mandato in tiltro. Sali sulla torre dell'orologio e vedrai il museo. Ok, cerchiamo un modo per entrare. Ok, nuovo capitolo. Stavolta vediamo di non perderci i due tesori. Beh, prendila. Non contro di loro magari. Contro quello grosso. Perfetto. Proprio così volevo fare. Scusami. Scusami. Ancora questo tipo qui così? Uno, due. Magari in una visuale in cui posso vedere bene, grazie. Cosa? Eseurita. Ah, eccolo. Ehi, mi facevo già inculare. Ma ci ho messo tre anni nel primo a trovarlo. E qui era subito qua. All'istante. In una piazza enorme. E... Mi ha detto di scalare il... Come? 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 Ah, da qua. Hop. Ecco mi corre. Con... Con la guardia alzata. Miglia. Eh, ho capito. Non mi sembra così facile però salirci. Nack! Abbiamo trovato gli ascensori, ma non c'è corrente. Quando arrivi in cima, cerca qualcosa simile a un interruttore. Come è piccolo il cangio qui. Guarda, un bucchetto. Fatto apposto. Do! E io volevo vedere cosa c'era di là. Vabbè, niente. Yuhu! Ciao! Ah, bello. Il meccanismo di un orologio. Molto carino. Fa anche male. Volevo testarlo. Adesso non so cosa cazzo possa sentrare in un orologio parkour, ma va bene. Scusate, ma per completismo. Ok. Yuhu! Yuh! Che rischio. A parte che non rischio un cazzo in realtà, perché... Ho sempre... Oh, cazzo. Ecco, esatto. Ho sempre comunque il teletrasporto. Direi ora. Non si distrugge? No? Ehi. No, che non mancarlo. Sapete che qui in mezzo ci sarà una rottura di coglioni... Da qualche parte. Nascosto, dovissà dove. Esempio qui? No, è normalissimo. Mamma mia! No, che ti sei salvato uno. Ok. Perfetto. Ottimo salto, vi. Olè. Olè. Ok, il teletrasporto si è riattivato. Wow, wow, wow. Ah, però... Ho altri due poteri, tra parentesi, madonna. Sto... Sto crescendo come non so cosa di potere. Andiamogli, potenziamolo. Che cazzo devo fare? Se il potenzio è questo, che mi apri? Quale via mi apri? Oh, due super mossa addirittura. Dell'abilità. Ok. Fammi vedere cosa c'è qua. Velocità aumentata del pugno pesante. Oh, grande. Velocità del calcio con salto aumentata. Tutta velocità in realtà. Placcaggio. Oh, carino. Posso iniziare a fare le schivate meglio. Non l'ho capito, aspetta. Beh, io direi placcaggio. Ah, sono tutte da due. Eh, stavo dicendo che stavo salendo purtroppo facilmente. Di esperienza. Lo cazzo solo. Scusate. Minchia. Sembra pericolosetto. È stupendo. E comunque sono pronto a scommettere che ho perso il segreto. Iopa! Oh. Oh. Ma lo direi che è un interruttore. Serve forza. Ci sei con tutto il peso. Mi ha portato un po' di reperti. Grazie. Sono sicuro che ho perso qualche cosa. Che pronto a scommetterci. Dai, dai. Io so che ho perso. Perché lì troppo parkour. Cioè, ci deve essere qualcosa di segreto. Grazie per aver seguito il video. Se vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un mi piace e di condividere. Inoltre, se non siete ancora iscritti, vi ricordo di iscrivervi qui sotto. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!